Ciao a tutti dall'Irlanda, sono Paolo Aste, mi definisco una tetra vitrocyclet che percorre le lunghissime distanze, dalla 24 ore di Le Mans a 770 km alla Ramo, 5.000 km in meno di 10 giorni. Anche quest'anno sono stato sostenuto dalla ditta Bonetti che mi ha fornito dei telaio eccezionali. Ringrazio vivamente la ditta per le biciclette fornite. Grazie veramente a tutti. Grazie a tutti.